Ciao, sono Domenico D'Aurea, un promotore come te. Ho attraversato molti momenti lavorativi, il tempo dei buoni contributi, l'avvento delle banche online e adesso questa crisi che sta incidendo negativamente sui nostri guadagni. Mi sono posto una domanda, cosa si può fare per uscirne fuori. Da soli è difficile, ma in gruppo è possibile. Ecco perché ho dato vita a promotori online, il club dei promotori finanziari, uno spazio nel web e in Italia, una piazza dove possiamo condividere idee, divertimento e nuovi business. Appena ti sarai registrato potrai entrare nella parte interna del sito dove troverai uno spazio dedicato al mondo del lavoro, ma anche del tempo libero. L'opportunità di ascoltare l'opinione dei nostri colleghi con le interviste video. Pianeta Donna, uno spazio dedicato alle donne. Poi le news del mercato finanziario e inoltre degli ottimi business, opportunità di business. Sì, opportunità di guadagno. Perché ho selezionato appositamente per gli iscritti al club degli ottimi business nel settore immobiliare, come la vendita di casali nella Maremma Toscana e anche degli appartamenti in Sardegna. Altri business nel settore della nautica, come la vendita di barche nuove e usate, posti barca nei porti più in dell'Italia ed altre ancora. Clicca qui sul tasto a destra e iscriviti. È gratis, è veloce e bastano solo pochi secondi. I benefici sono molti. È gratis. Ti divertirai con vecchi e nuovi amici e avrai l'opportunità di condividere degli ottimi business. Clicca qui sul tasto a destra, iscriviti. È veloce. Ti aspetto.